Hey man, io sono Reganer e benvenuti a un nuovo Indie Horror Game. Questa volta siamo sulla mod di SCP, My Little Foundation, ovvero la mod di My Little Pony. Non volevo fare quello classic, volevo fare qualcosa di diverso, magari un po' più colorato. In un horror magari ci sta. Facciamo il... Sì, vabbè, con 10 n in meno magari. Err, ok. Vai. Uh, ma che bel grafichino, eh. Documento. Menu. Andiamo. Eh sì, guarda, eh... Chiariamoci subito, io col cazzo che leggerò tutte queste cose. Eh sì, buon uomo. Via. Oh. Buon uomo, mi dica. Ok. Dove mi porti di be... Salve. Dove mi porti di bello? Che... Che bello! Ma è bellissimo! Lo voglio! Sì. Eh... Oh! Eh, salve, ma... Siete coperti di latex oppure siete colorati così in di natura? Curiosità! Oh, Pinkie Pie! Siete nelle violenta anche. Che belli che siete! Siete belli... Bellissimi! Vi voglio... Uh, Pinkie Pie! Siete belli che siete! Guarda, c'era una festa qua, altro che... Nell'altra mod... Cioè, nel gioco originale c'era la sangue, qua ci sono il coriando, gli stelle filanti... Perché si è riaperta la porta? Eh... Siete di essere un problema con la porta di controllo sistema. Le porte non rispondono a alcune delle attenze di chiunque, quindi... Siete di essere un'altra distanza di chiunque, quindi... Va bene! Mi scola larga... Che cazzo è? Oh, cazzo! No, 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 no! Scherzavamo, scherzavamo, era tutto? Oh, cazzo! Oh, cazzo! Oh, cazzo, cazzo, cazzo! Ma io faccio anche quello che se ne va, eh! Perché non mi piace trattenermi a lungo, non voglio disturbare... Eh... Qui che cazzo, c'è documenti che non ho voglia di leggere, anzi, no, leggiamo, non si sa mai... Eh, la foto non promette bene, eh! Eh, e andiamo? Pile? Batterie? Serviranno a qualcosa, forse? Cos'è stato? Perché ho paura che mi spunti qualcosa da un momento all'altro, quindi preferirei magari evitare di, eh, star fermo... Magari incappare in qualcosa che non va... Vai, 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 vai... Oh, yeah! Altri fumi... Proseguiamo nel nostro cammino... Dove dovrò andare... Se la... Io sento dei rumori che non... Oh! Dov'è? Oh, cazzo! Stai, 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 stai lì, Pinkie Pie! Stai lì, Pinkie Pie! Tranquilla, non ti disturberò più! Vai, tranqu... Tranquilla... Che cos'è? Ma lei è cattivo? Permesso? Si sente bene? Va tutto bene? Sì, allora... Io faccio finta di niente, la saluto... Io proseguo per la mia strada, faccio finta di non averla vista... Cosa? Intanto sento un rumore che non mi piace... Io vado... Prima sentivo... Vabbè... Facciamo... Oddio! Io non vado più lì! Fanculo! Col cazzo che ci entro! Ok, proseguiamo... Ho preso la tessera qua... Proseguiamo pure... Verso l'infinito... E oltre... Mmm... In questo caso mi sa che la maschera può essere utile... Oh! Pinkie Pie! Scusami! Perdonami! Scusami per ogni cosa! Non lo farò mai più promesso Pinkie Pie! Te lo giuro, 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 te lo giuro che di sta cazzo di porta! Eh, il problema cazzo, sento qualcosa... No! Allora, tecnicamente mi stanno dicendo che la strada è sbagliata... Vediamo se confermano la cosa... Si confermo! Ok, quindi, torniamo indietro, sperando di non dover andare... Poni, poni all'interno... Ancora... L'hai già detto prima, aspetta che guardo un po' magari... Magari... Boh... Mmm... Siete bellissimi, siete fantastici... Ma io però... Pinkie Pie! Sei tu? Io però non voglio andare là, c'è qualcosa là, di là... Io non voglio... Aspetta, forse di qua... Che cazzo... Pinkie Pie! Pinkie Pie! Pinkie Pie, scusami! Scusami, 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 scusami... Non succederà mai più, te lo prometto... No, io non voglio andare lì... No, no, no... Perché? Dai, forse coraggio... Basta che non li passo davanti... Se non li passo davanti, forse non si sveglia... Forse... Ok, io me ne vado... Dai, stia lì tranquillo che... Va tutto bene... Che cazzo... Ma dov'è? No, dimmi che è un piccolo cieco questo... Ai 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 ai... PORCHE TROIA! Ragazzi, purtroppo mi trovo costretto a fermarmi... Per il semplice motivo... Che... Il gioco continua a mandarmi... In crash il programma... Faccio fatica a registrare... E' un macello, ovviamente... Non so perché... Forse questo gioco è un maledetto... Non so cosa dirvi... Mi dispiace perché... Mi sto anche prendendo comunque... Cioè... Era bello... Bello potente come horror... Il problema è... Questo appunto... Volevo creare una serie... Su questo gioco ma... Se continua a far così... Magari farò altre prove... Magari rifacendo alcuni pezzi... Però se continua così veramente... Non lo posso fare perché... Beh... Continua a farmi... A chiudermi il programma... A mandarmelo in crash... Perdo tutto il lavoro... Che magari ho già fatto... Quindi... Preferirei già... Tagliare tutto... E' stato divertente fare questo gameplay... E spero che sia divertente anche per voi... Vederlo... Lasciatemi un piace se volete... Iscrivetevi al canale... Condividete il video... Commentate... E... Ci vediamo... Con un horror... Spero magari... Che non mi mandi crash... Tutto il sistema operativo... Niente... Ci vediamo presto al prossimo video... Ciao belli...